Conte voglia tenersi le mani libere per il movimento nel senso che un po' il rimpianto c'è per le alleanze populiste quelle financo con la Lega e quindi alcune delle posizioni di queste ore sono spiegabili in una strategia movimentista per i 5 Stelle Ti pare che ci stia questa spiegazione? Ma guarda, allora, secondo me Conte in questo momento è come Gepp Gambardella nella Grande Bellezza cioè lui si è messo addosso la giacca gialla e legittimamente lui non vuole partecipare al campo largo lui vuole avere il potere di farlo fallire perché? Questa non è una critica, è un'osservazione lui sa che in questo momento, qualora si formasse il campo largo lui sarebbe il secondo protagonista perché sondaggi alla mano, elezioni alla mano la Schlein ha più voti non è detto che li abbia la Schlein ma comunque il PD Conte, giustamente, dal suo punto di vista vuole tornare a fare il presidente del Consiglio quindi fino a quando la Schlein e il PD saranno alti nel gradimento lui continuerà a disfare questa tela del campo largo perché immaginiamoci uno scenario in cui il campo largo funziona a meraviglia con la Schlein comandante in capo Conte sarebbe condannato ad essere subalterno quindi questo è il primo punto Conte si augura che questo governo vada avanti il più possibile perché in questo modo ci sono più possibilità che la Schlein cada nei sondaggi secondo punto il campo largo ma voglio dire, già il fatto che non si chiami alleanza è significativo ma non potrà mai esistere perché immaginiamoci un secondo un insediamento domani del governo giallorosso in politica estera quindi non su questioni secondarie sono totalmente divisi i 5 Stelle, non entro nel merito hanno una posizione il PD ne ha totalmente un'altra peraltro il PD in politica estera il Parlamento Europeo ha otto posizioni diverse su 21 euro deputati sono divisi sul referendum sulla cittadinanza perché Conte non ne vuole sapere neppure Calenda mentre il PD e Bonelli e Fratoianni hanno sottoscritto la raccolta firme litigano sul salario minimo litigano su delle cose importantissime cioè domani il governo giallorosso se si dovesse insediare non cadrebbe sulla flat tax al 18, al 19, al 21% cadrebbe sulla politica estera gettando un discredito clamoroso sull'Italia quindi è chiaro che ti sta obiettando? voglio solo dire che tra tutti gli esempi quello della politica estera il centrodestra è diviso quasi su tutto ho capito ma c'è una differenza sostanziale ti seguo Sara ti seguo però c'è una differenza sostanziale che votano insieme e in politica contano i voti in Parlamento poi si può avvisticciare ma contano i voti quindi come si fa ad avere un'alleanza all'opposizione è chiaro che puoi prenderti più libertà ma Sara, certo, certo però le posizioni sono talmente diverse qui non si discute Sara, aspetta un attimo scusa che ho un brutto ritorno non stiamo parlando come dicevo prima di qui squiglie che vabbè si litiga ci si mette d'accordo la politica estera vuol dire non essere d'accordo sulla cosa più importante che ci sia ti ho promesso Alessandro fra poco però parliamo di politica estera e centrodestra ti voglio fermare un attimo perché c'è Alessandro De Nicola Alessandro De Nicola per chi, i pochi che non lo dovrebbero